Musica Nuova puntata del caso relativo alla rotatoria progettata sulla strada statale 18 nei pressi dell'intersezione con via Mango. Dopo il ricorso al Presidente della Repubblica, infatti, la famiglia Santese ha presentato una diffida nei confronti del Comune e dei privati affinché vengano sospesi i lavori in attesa della decisione cautelare che renderà il Tar di Salerno. La diffida è scaturita dall'avvio dei lavori da parte dei privati, nonostante si fosse in attesa di una pronuncia del Consiglio di Stato in merito al ricorso al Presidente della Repubblica. Non ho parole, con molta onestà. Davvero Battipaglia mi sembra ormai il paese delle banane. Ognuno la mattina che si alza è quello che comanda e non si capisce più nulla, onestamente. Io penso che qualsiasi amministrazione comunale d'Italia e qualsiasi dirigente responsabile di un interesse pubblico collettivo il minimo che avrebbe dovuto fare è bloccare i lavori, diciamo sospenderli, non bloccarli, ad oras nel rispetto di quello che un cittadino nella difesa della propria città. Se ha ragioni o meno, questo non lo so, poi saranno le sedi opportune a dire se quello che magari noi pensiamo che abbiamo scritto risponde al vero o no, crediamo nella giustizia e diciamo si andrà avanti e si vedrà. Ma un'amministrazione comunale, un dirigente che dovrebbe rappresentare gli interessi dei cittadini e non gli interessi di qualche privato dovrebbe quando meno, per una questione proprio di rispetto, fermare ad oras i lavori, anche perché le voglio dire una cosa stranissima, dopo il nostro ricorso presentato giovedì, le parti avevano 60 giorni per poter fare opposizione a questo perché era stato fatto al Presidente della Repubblica. L'hanno fatto in 48 ore, hanno fatto subito il ricorso portando, ahimè, questo ricorso al TAR di Salerno, togliendolo da Roma, il motivo non lo conosco, poi si vedrà andare avanti però devo dire che questo tipo di ricorso portato al TAR di Salerno, il TAR in un giro di 7, massimo 10 giorni si esprimerà in merito, immediato, se sospendere in autotutela o meno. Allora, visto ancora questi brevi, si sono molto ristretti i tempi sarebbe stato quando meno corretto, doveroso, onesto, giusto da parte di chi di dovere, dall'amministrazione comunale di sospendere in autotutela per capire se aveva ragione l'imprenditore o aveva ragione il cittadino rispetto a questa cosa. Non è stato fatto, ieri mattina, proprio su questo che stanno continuando i lavori, ieri mattina abbiamo presentato ancora un ricorso straordinario proprio all'ingegnere capo del comune, all'amministrazione tutta completa, l'abbiamo anche notificato e la cosa ancora più grave è che nel notificarlo, anche per rendere un po' tutti quanti edotti di cosa stava accadendo, perché mi sembra che ognuno favoreccia da mercanti quando una cosa non gli riguarda. Per esempio, voglio dire adesso sul castello di Battipaglia, che dopo 50 anni stava accadendo, l'abbiamo ristrutturato nell'interesse della collettività, perché se anche di proprietà privata, ma resterà nell'interesse di tutti, e tutti ne parlano, abbiamo subito due anni di cattiverie sui social, dicendo che ognuno con i nostri soldi voleva decidere lui come fare e come andare. Una cosa come questa, che nell'interesse di tutti, mi sembra che tutti dormano, nessuno parla. Allora, quando si parla di Santese fa sempre le cose male, quando si parlano degli altri gli è permesso tutto, farle male o farle bene, basta che le fa un altro che non sia Santese. E io cerco di far capire proprio a queste persone, ai cittadini battipagliesi, che la gente deve essere rispettato per le proprie capacità, per quello che ha da fare nell'interesse della collettività. Abbiamo fatto questo ricorso, come le dicevo, la cosa più grave che abbiamo detto all'amministrazione comunale tutta, compresa i dirigenti, di estendere questa notifica anche ai capigruppo, sia di maggioranza che di opposizione, perché anche loro devono essere coinvolti a capire cosa sta succedendo in questa città, perché se poi vengono richiamati puntualmente dicono sempre che non si sa nulla, perché già ci è capitato anche a noi, abbiamo fatto vari ricorsi, anche per la rotatoria, che ho parlato l'altra volta, sopra, davanti all'hotel commercio, e ci è stato detto sia dagli assessori, sia dai dirigenti che non erano a conoscenza di nulla. Un ricorso presentato, notificato, detto anche di farli a loro presenti, nessuno si cadevano sempre e tutti dalle nuove. Stamattina, come lei dice, ho visto anche io che i continui, non se ne fregano, ma un'altra cosa che sono rimasto non male, ma di più, è che ho ricevuto ieri una telefonata di un dirigente del Comune che mi invitava ad andare sul luogo, perché ci sarebbero stati i rappresentanti di questa azienda che dovrebbe fare per conto del Comune, dovrebbe fare questa rotatoria e dice, vieni a vedere anche tu, perché se hai da dire la tua, magari cerchiamo di aggiustare un qualcosa, ma io quello che ho da dire l'ho firmato, l'ho messo per iscritto e ho detto le mie perplessità e le mie ragioni, io non ho nulla da dire, io credo nella giustizia, mi auguro che la giustizia faccia il suo corso, se poi questi signori pensano di essere i padroni di tutto, poi saranno gli altri a giudicare nelle sede opportune, se è stata fatta in buona fede, se lo fanno in mala fede, io non lo so, mi auguro e ne sono convinto che lo fanno in buona fede, però almeno guardassero le carte e se le leggessero, e nel rispetto di chi ritiene che stanno facendo qualcosa, perché io ritengo di non giusto, quando meno di aspettare innanzi a un tribunale, dinanzi a un tar, dinanzi a un magistrato, dinanzi alla città tutta, di rispettarla, solo questo chiedo, perché io penso che, come lo dico sempre, battipaglie dei battipagliesi, non possiamo più consentire e permettere alle persone di fuori che ci obbligano a non far crescere questa città, a non farla essere la città tra le più belle della provincia di Salerno, in quanto probabilmente qualcuno ha interessi per far crescere la provincia, per far crescere altre città, e noi siamo sempre quelli che veniamo calpestati. Grazie.